Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie per questa sera. Continua la chiusura notturna di via Zinozini tra il Civico 68 e il Corso Bramante per lavori. Veniamo alle notizie di domani, giovedì 9 novembre. Attenzione perché domani e dopo domani venerdì dalle 9.30 alle 17 chiude strada Traforo del Pino per lavori di rinforzo strutturale sui viadotti. Dalle 8.30 alle 11.30 di domani mattina, giovedì, davanti al comando della Polizia Municipale via Bologna 74 sarà presente un'auto emoteca dell'Avis a donare il sangue è una cosa bella, fa del bene e aiuta. Civic in piazza domani nella sesta circoscrizione presso il giardinetto di via Spontini via Montanaro Corso Giulio Cesare dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Sempre domani alle 17.30 presso la chiesa del Corpus Domini in ricordo dei dipendenti comunali Santa Messa a cura dell'Associazione Signores della città di Torino. Domani pomeriggio dalle 16 alle 17 un presidio in Piazza Castello, Angoloria Garibaldi. Come tutti i giovedì notte, poi domani notte la pulizia meccanizzata con la chiusura dei sottopassi. 23.30 a 1.30 a sottopasso Repubblica Portapalazzo, 2.30 a 4.30 a sottopasso Lanza Corso Massimo d'Azeglio. Mi ricordo infine per venerdì lo sciopero dei mezzi pubblici di USB, lavoro privato, fasce protette, rete urbana e suburbana metropolitana dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per quanto riguarda le autoline extraurbane e le ferrovie GTT, da inizio servizio alle ore 8 e dalle 14.30 alle 17.30. È tutto, buona serata, buon viaggio e a domani!